Si chiama Claire O'Neill, è la vittima di questa storia che mi appresta a raccontare in questo video di oggi la quale donna, pensate che, è stata sottratta da parte di alcuni malviventi del suo mezzo si parla di una Audi S3 e prima di fuggire dalla scena ad Alcon's Green in Birmingham, in Gran Bretagna pensate che non si sarebbero accorti che dentro al mezzo in questione c'era la figlia neonata i ladri in pratica avrebbero rubato la sua macchina, la disperazione, però sarebbe andata la figlia neonata contenuta all'interno del mezzo in questione, per fortuna i ladri però non avevano intenzioni brutte se non quelle di portare a termine il furto, la piccola è stata trovata in un centro sanitario vicino al luogo del reato, ancora dentro il suo seggiorino una storia incredibile quella che ci giunge dall'Inghilterra, di cui ho voluto parlare in questo video di oggi per farvi rendere conto del fatto che a volte i malviventi, i ladri, possono compiere quello che vogliono ma a volte non si rendono conto che possono essere dentro, al mezzo dove si trovano, anche figli e o parenti e ciò può creare un po' di problemi a loro stessi bene, il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate un salutone e al prossimo da Narrato Italiano